I titoli di oggi, Piazza Fontana, l'incontro con il prefetto, la manifestazione di Mel. Ci ritroviamo fra 30 secondi dopo la pubblicità. Lo SpiCGL ti dà di più, con la professionalità, l'evoluzione tecnologica, la disponibilità e con l'apertura alle 8 del mattino nelle sedi di Feltre, Sedico e Alpago. Vuoi sapere quando potrai andare in pensione? Se hai tutto quello che ti spetta? Se ci possono essere delle integrazioni alla tua pensione? Con SpiCGL tutto diventa semplice, presente in tutta la provincia per darti sempre di più. www.spibelluno.it Piazza Fontana. Sono passati 50 anni. Con la bomba nella Banca dell'Agricoltura a Milano, il terrorismo di stampo fascista fa eruzione nella nostra storia. Per la prima volta in Europa dalla fine della guerra, il terrorismo arriva nel centro di una grande città, con 17 morti e 87 feriti. Il terrorismo diventa un'arma potente per ridisegnare i rapporti di forza usciti dalle lotte sindacali e dalle grandi mobilitazioni sociali. Per chi ha vissuto quegli avvenimenti si ricorderà di un'emozione fortissima dei funerali delle vittime in Piazza Duomo, con la presenza muta e maestosa del popolo milanese. La polizia annuncia subito di aver trovato i colpevoli, gli anarchici e di aver arrestato un ballerino, Pietro Valpreda. Con rare eccezioni, giornali e televisione sposarono in pieno questa conclusione e si scatenarono contro il mostro. Oggi, mezzo secolo dopo, si può dire che gli anarchici non c'entravano nulla, che le bombe invece le mise un potente gruppo nazifascista, che agiva con la copertura di vertici del Ministero degli Interni e dei Servizi Segreti. Si scopre che il timer utilizzato per la bomba è stato acquistato a Treviso, dove i magistrati Stiz e Calogero avviano un'inchiesta che rileva il coinvolgimento nella strage di una cellula neofascista padovana. Dopo lunghi anni e difficili indagini, vennero alla ribalta i nomi di Franco Freda e di Giovanni Ventura, e poi quello di Guido Giannettini, agente del SID. Cos'è il servizio civile? Il servizio civile rappresenta un'importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani dai 18 ai 28 anni. Dà la possibilità di dedicare un anno della propria vita a favore di un impegno solidaristico e di aggiungere un'esperienza qualificante al proprio bagaglio di esperienze. Assicura anche una sia pur minima autonomia economica e può diventare, come spesso si è verificato, un'opportunità di lavoro. Anche quest'anno è partita la selezione per 46 nuovi volontari del servizio civile, per tre progetti presentati dal Comitato d'Intesa e dall'Unione Montana-Feltrina. I volontari sono distribuiti tra diverse cooperative, amministrazioni comunali ed altri enti della nostra provincia. L'identità mensile prevista per i volontari per un impegno settimanale di 25 ore sarà 435 euro. L'Unione Montana-Feltrina e il Comitato d'Intesa per le associazioni volontaristiche della provincia di Belluno sono impegnati in progetti di servizi civili dal 2005. Fino ad oggi hanno potuto coinvolgere più di 370 giovani volontari. Il servizio civile è un'occasione per crescere, per confrontarsi, rappresenta un investimento professionale e un'esperienza utile per avvicinarsi al mondo del lavoro. Liliana Segre La senatrice a vita Liliana Segre ha vissuto sulla sua pelle l'orrore delle leggi razziali e della deportazione. La sua proposta di una commissione contro l'odio, la discriminazione razziale e l'antisemitismo parlava all'anima e dalla coscienza degli italiani. Una parte ha ascoltato, un'altra no. Il Senato ha approvato la mozione con 151 sì e 98 astenuti. Il centro-destra, in blocco, si è astenuto. Al termine della votazione, la parte sinistra dell'emiciclo si è alzata in piedi in omaggio alla senatrice e la restante è rimasta seduta. Abbiamo assistito a una brutta pagina di storia parlamentare. L'antisemitismo esiste in Italia e in Europa. È un fenomeno in crescita. Non sarà una commissione a scongiurarlo, ma il Parlamento doveva dare un segnale forte. Non ci si può astenere dalla lotta al razzismo. Quando una democrazia è fragile, il passato può ripetersi, ha dichiarato Liliana Segre. Noi la pensiamo come lei. Presidio e incontro con il prefetto di Belluno I pensionati sono stati in presidio in Piazza Duomo a Belluno il giorno 10 dicembre per la rivendicazione di importanti tematiche, già esplicitate a questo governo nella manifestazione del 16 novembre scorso al Circo Massimo di Roma, quali emendamenti alla legge di bilancio. Nel nostro Paese ci sono 3 milioni di persone non autosufficienti, la maggior parte delle quali anziane. Nella nostra provincia le persone anziane non autosufficienti sono 5.691. Le persone in età lavorativa non autosufficienti sono 1.892. Numeri importanti, un'emergenza nazionale di cui nessuno parla e che devono far pensare chi governa il Paese a proporre nuove forme di sostegno. La non autosufficienza diventa un peso insostenibile per milioni di famiglie che se ne fanno carico da sole e che rischiano di finire in povertà. Le risposte delle istituzioni finora sono inadeguate, frammentate nella spesa e nelle risorse, negli interventi, nei servizi. Serve una legge nazionale, una legge quadro sulla non autosufficienza che individui risorse e che prenda in carico le persone così fragili. La legge deve garantire che nel Paese si realizzi la reale presa in carico delle persone non autosufficienti come previsto dal DPCM del 17.1.17. Devono essere definiti livelli essenziali di assistenza, aumento adeguato delle risorse, criteri uniformi per il riconoscimento dello stato di non autosufficienza, attuazione e rafforzamento dell'integrazione tra le politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie. Chiediamo inoltre, per tutelare il potere d'acquisto delle pensioni, la rivalutazione delle pensioni stesse, ovvero la rivalutazione automatica del trattamento pensionistico, secondo il meccanismo stabilito dalla legge 23 dicembre 1998. Chiediamo poi, per aiutare le pensionate e pensionati, l'ampliamento della platea dei beneficiari della quattordicesima mensilità sulle pensioni da lavoro. La grande manifestazione di Mel. Il 10 dicembre i pensionati dell'ospice GL, della FNP CISL e della WILP WIL sono stati in piazza Mel per solidarietà ai lavoratori di Wambau ACC, una piazza che ha abbracciato e che lotta insieme a tutti i lavoratori e le lavoratrici della Wambau ACC, dell'occhialeria Safilo, della cantieristica, dell'edilizia, della chimica e del tessile calzaturiero, del commercio e dell'agricoltura, che stanno combattendo con forza e responsabilità non solo per il proprio posto di lavoro, ma per il bene di questa provincia, per evitare la perdita di posti di lavoro e contro l'impoverimento del territorio. Una grande manifestazione che ha fatto sentire il peso dei partecipanti. circa 2.000 persone hanno chiesto con forza che si trovi una soluzione al licenziamento di 200 lavoratori. Sentiamo su questo il segretario della Camera del Lavoro, Mauro De Carli. Le multinazionali che hanno aggredito la provincia di Belluno nel corso degli ultimi 10 anni e nessuno ha voluto alzare il tono su questo tipo di prospettiva che si stava verificando, è un problema. Sono multinazionali con cui non si riesce a parlare, prendono decisioni in territori e in ambiti totalmente diversi dal nostro e quando prendono una decisione spesso volentieri lasciano dei vuoti enormi dentro le province in cui ci sono lavoratori, famiglie, gente comune che spera di avere un futuro. La decisione di Mauro è proprio in questo senso. hanno deciso e ci hanno comunicato così da mattina a sera che quando finiranno i soldi vorrebbero chiudere. D'altra parte ci sono altre multinazionali che stanno facendo dei cambiamenti molto molto forti anche nell'altro settore che è nel settore dell'occhialeria. Magari un po' più vicine dei cinesi per carità, ma sempre come dire gruppi mondiali che hanno dei poteri enormi. Il territorio può solamente reagire, può veramente imprimere una sua voglia di protesta, chiedere alla politica che intervenga perché si costruisca un sistema industriale più sereno, più forte, più radicato nel territorio in cui effettivamente gli elementi di qualità siano gli elementi con cui costruire le nostre produzioni e far reggere effettivamente il nostro sistema industriale. Nel punto di oggi volevo parlare del clima. Un po' perché il convegno con Luca Mercalli della settimana scorsa ci ha fatto riflettere molto e un po' perché ho visto le dichiarazioni del Presidente della Commissione europea, del Parlamento europeo, Ursula von der Leyen, che si impegna in maniera decisa per quanto riguarda, per evitare l'inalzamento della temperatura del nostro continente. E infatti lei dice, apre con un'espressione molto forte e dice il Green Deal europeo sarà il nostro uomo sulla Luna. E con queste parole evocative ha presentato il piano, approvato all'unanimità dalla Commissione europea per combattere il cambiamento climatico e ad essere il primo continente climaticamente neutro entro il 2050. Tra gli obiettivi del programma ha dimezzato il dimezzamento delle emissioni di diossido di carbonio entro il 2030, la presentazione della prima legge europea per il clima entro marzo dell'anno prossimo, l'introduzione di una tassa per le aziende straniere inquinanti entro il 2021, l'istituzione poi di un fondo atto a sostenere i Paesi dell'Unione nel processo verso la sostenibilità e lo stop entro il 2021 ai finanziamenti al fossile da parte della Banca europea degli investimenti. Proposte rivoluzionarie che verranno formalizzate con il nuovo anno e su cui il Parlamento europeo voterà nella prima sessione di gennaio. Un voto che cambierà la storia dei prossimi decenni, che non si preannuncia facile. La svolta verde genera ancora diversi malumori, sia nei palazzi dei governi di molti Paesi membri, specialmente quelli del gruppo di Visegaard, Polonia, Ungheria, Slovacchia e Ceco, che proprio tra gli scanni del centro-destra a Strasburgo, dove siedono principalmente popolari e i conservatori riformisti non sono d'accordo di adozione di queste nuove normative. Ma il tema del clima si trova su tutte le testate giornalistiche. Vediamo appunto che anche in questi giorni gli esperti del CNR vedono un scenario mondiale sempre più preoccupante, anche se le temperature non aumenteranno ulteriormente. I ghiacciai, dicono di tutto il mondo, hanno la febbre e nel giro di pochi decenni la Terra rischia di perdere buona parte del suo antico manto bianco. In Italia si prevede che tra 25-30 anni il ghiacciaio della marmolada possa scomparire del tutto. Lo stesso potrebbe accadere a tutti gli ghiacciai del pianeta se l'aumento delle temperature dovesse superare i 2 gradi. Le speranze per la marmolada non sembrano essere molte, anche se la temperatura restasse com'è. Il suo destino appare segnato. Tra il 2004 e il 2015 ha subito una riduzione di volume del 30% e di area del 22%. Se un tempo era la massa glaciale unica, ora è frammentata, è suddivisa in varie unità, dove in diversi punti affiorano masse rocciose sottostanti. E se il tasso di riduzione continuerà come nel passato decennio, tra 25-30 anni, il ghiacciaio sarà praticamente scomparso. Per la fine del secolo sarà fondamentale dunque contenere l'aumento della temperatura globale entro l'1,5 gradi, perché se si superano i 2 gradi di aumento delle temperature scompariranno tutti gli acciai del mondo e ci sarebbe una perdita di neve che danneggerebbe l'approvvigionamento idrico. Dunque il limite di un grado e mezzo di aumento della temperatura globale rispetto a quella temperatura del periodo pre-industriale viene definito un garrei per il pianeta. E c'è un rischio molto maggiore di aumento irreversibile del massiccio dei livelli del mare a 2 gradi, 12-20 metri in più nel lungo termine, con conseguenze per la pesca negli oceani polari a causa dell'acidificazione dell'acqua. Lo scioglimento dei ghiacci non è però una novità nel nostro pianeta. Ci sono studi che mostrano che le temperature tropicali aumentarono in tutto il pianeta 20.000 anni fa e che il riscaldamento potrebbe essere stato causato da una riduzione delle differenze di temperature tra le regioni polari e quelle tropicali. A differenza però di 20.000 anni fa, in questo caso il principale imputato per lo scioglimento dei ghiacciai è l'uomo. Dunque tutti dobbiamo impegnarci a lasciare un mondo migliore ai nostri figli e nipoti e fare tutto quello che possiamo per evitare l'aumento della temperatura. Succede in Europa. L'addio di Juncker. Passaggio di consegne alla direzione della Commissione Europea. Jean-Claude Juncker ha ceduto il suo incarico a Ursula von der Leyen. Con quest'ultima cerimonia si conclude il cambio della guardia ai vertici delle istituzioni europee. Donald Tusk aveva lasciato il suo posto di presidente del Consiglio Europeo al belga Charles Michel solo pochi giorni prima. La strada in salita della von der Leyen. Ursula von der Leyen è dal 1 dicembre 19 ufficialmente alla guida della Commissione Europea. Vi sono molti gravosi impegni per lei. Per esempio la parità di genere. La nuova Commissione rimane a maggioranza maschile. Solo pochi commissari hanno scelto delle donne per dirigere i loro uffici. Vi è poi il suo piano per l'ambiente. La presidente della Commissione UE ha annunciato un piano di investimenti da mille miliardi. Ecco gli obiettivi. Primo, dovrà rilanciare l'economia, produrre ricchezza, nuovi posti di lavoro, produrre nuovi modelli di crescita, essere competitivo. Non a caso la presidente ha coniato l'espressione sostenibilità competitiva. 2. Dovrà creare una nuova politica industriale europea che sia realmente federale e non più solo la somma di politiche nazionali. 3. Dovrà prevedere un corposo taglio delle emissioni, meno il 50% entro il 2030. 4. Dovrà prevedere un pesante piano di imposte per le aziende inquinanti, in modo che non inquinare sia più conveniente che farlo. 5. Dovrà prevedere, nei limiti possibili all'interno dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, sanzioni per le aziende extra Unione Europea che invece inquinano. In questo modo non solo si farebbe pressione anche su attori economici esterni all'Unione, ma si eviterebbe il dumping, cioè la vendita a un prezzo inferiore ai mercati esteri. 6. Dovrà sostenere il Just Transition Fund, un fondo dedicato ai paesi dell'est Europa, i cui standard di inquinamento sono ancora insufficienti e la dipendenza dalle fonti fossili ancora troppo alta. Il fondo avrebbe l'obiettivo di finanziare la transizione verso industrie e fonti energetiche più pulite e riqualificare in tal senso i loro lavoratori. 7. Stoppa i finanziamenti a progetti inquinanti. La questione è già parzialmente in atto, perché lo scorso 15 novembre la Banca Europea per gli Investimenti ha fatto sapere che alla fine del 21 non finanzierà più progetti a base di combustibili fossili. 8. Sostegno all'agricoltura sostenibile. Von der Leyen ha promesso sostegno al piano Farm to Fork, progettato per aiutare gli agricoltori a produrre cibo in modi più sostenibili. Nuovo Ise Informiamo tutti coloro a cui è stato concesso il reddito o la pensione di cittadinanza dell'obbligo di rinnovare l'Ise entro il 25 gennaio 2020. Il nuovo Ise dovrà essere ricalcolato sulla base dei redditi del 2018. E con quest'ultima informazione termina il nostro notiziario. Grazie a tutti per averci seguito.